Per i pazienti questa malattia che è molto poco riconosciuta ancora sia dal sistema sanitario che dalla compagine sociale più ampia è una malattia che pervade un po' tutte le aree della vita. Altri parleranno meglio magari degli aspetti medici. A me preme come paziente, anche se sono poi medico anch'io e quindi ho anche quello sguardo lì, sottolineare come sia una malattia che oltre a provocare del fastidio, il prurito e del dolore fisico quando ci sono delle lesioni e quindi rendere difficili anche una serie di operazioni della vita quotidiana come lavarsi oppure andare a lavorare, è una malattia che si vede, che si vede sulla pelle e quindi modifica l'immagine che la persona ha di sé e quindi influisce anche sull'autostima, sulla propria capacità di interagire con gli altri, di avere una vita di relazione e anche l'immagine che gli altri hanno di noi. Mi aspetto sostanzialmente due grandi capitoli, poi vedremo dell'altro magari. Uno è di lavorare perché alcune informazioni arrivino più chiaramente ai settori della politica che gestiscono la sanità in modo che tutte quelle cure che adesso non sono ancora disponibili se non a pagamento diventino accessibili anche a chi con questa malattia non ha grosse risorse. E l'altro capitolo è quello della formazione, la formazione fra pazienti. Io ci ho messo degli anni a capire come gestire la mia malattia e vengo da una famiglia di buona cultura, vivo in una grande città, immagino quanto più difficile sia stato per altri. L'associazione ha un sito internet www.andea.it che è in costruzione, è un'associazione appena nata, quindi stiamo lavorando a riempirlo di materiali. C'è già anche un'email info-andea.it a cui si può prendere contatto in questa prima fase quando ancora sul sito non c'è molto.